con molto piacere presento questa mia terza pubblicazione con le edizioni messaggero di padova viaggio conte il missionario laico povero tra i poveri un testo che racconta la storia di questa figura davvero straordinaria che è vissuta a palermo per 59 anni e che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta quanta la città viaggio conte un pazzo dicevano alcuni figlio di un imprenditore siciliano che aveva deciso di lasciare tutto benessere affetti familiari per iniziare a vivere povero tra i poveri con quei fratelli ultimi così li chiamava lui che portavano stampato nel volto l'immagine di cristo che chiedeva di essere amato è stato definito l'angelo dei poveri il cantore laico dell'amore di dio il san francesco di palermo ma per tutti era semplicemente fratel viaggio un'anima innamorata di dio e decisa ad offrire le energie di tutta un'intera esistenza per aiutare gli ultimi un punto di riferimento scriverà il presidente della repubblica sergio mattarella in occasione dei funerali di viaggio conte non soltanto a palermo per chi crede nei valori della solidarietà e della dignità della persona che ha testimoniato concretamente in maniera coinvolgente ed eroica fratel viaggio muore il 12 gennaio del 2023 all'età di 59 anni dopo avere trascorso 33 anni della sua esistenza amando cristo nel volto dei poveri e dei fratelli ultimi e dopo aver realizzato a palermo la missione di speranza e di carità la lettura di questo testo sono sicuro offrirà a tutti quanti lettori la possibilità di entrare nel mistero di questa grande missionarietà laica di entrare nel mistero della fede e di rintracciare anche alcune risposte alle tante domande della nostra esistenza al senso della vita che talvolta ricerchiamo in maniera davvero affannosa e allora a tutti l'augurio di una buona lettura iscriviti al nostro canale